Si è raggiunto il sole, è tramontato da quest'ora e chiudiamo la festa. Ringrazio a tutti per aver portato fortuna su YouTube e ringrazio la famiglia Sangalli e ti curiamo tanto a dire. È stata una bella giornata e soprattutto questo caro YouTube mi ha portato avanti a dire che il fenomeno sei raggiunto, 300 mi piace, 400 mi piace questo filmato, ma questo tengo per me inventare un vero fenomeno, un grande fenomeno, a dire questo YouTube è scritto campione del mondo di ginnastica artistica Mario Vossi e ringrazio a tutti voi e per la famiglia e un grazie, un applauso, poi questo paese è un po' più grande a dire vanno e un bacio.